Oddio! Ecco, chi è sempre quello che manca? Eh, l'olinclusive. Ma perché? Vuol dire che è quello che manca? A me c'ho un'inizializzazione del 90%. Eh, tu manchi sempre, noi siamo sempre due qua. Eh vabbè, ma tu c'hai di 9, lui c'ha la 3080. Tu sei struzzi. Io ce l'ho più bilanciato. Ma arriva domani. T'ho detto. Eh, io t'ho detto tutto. Ti ho pronosticato ogni cosa che te lo diamo. Perché sei Mosca col pendolino. Eh? Mosca col pendolino, chi cazzo è? Io te l'ho detto. L'importante è... Quando devo realizzare i sogni delle persone. Quando ti fa spendere le persone. Sono qui, ma realizzo i sogni. Vedete tutta la roba, per favore, ragazzuoli. Che è quella che piante sempre. Allora, spirit box, elamathus e la torcia. Elamathus e torcia. Il libro fa un c***o, non so. Oh no, c'è la nebbia. Oh c***o. Solo la nebbia. Ce l'avete solo. Porco. Ozza inda. I dinaratori. Allora, accendiamo subito la corrente. Perché siamo belli. Io accendo la tv. Tavola, Luigia. Chi ha la fotocamera? Nessuno? Luigia, sei tu? Allora, peggio io la fotocamera. Luigia. Ho acceso la corrente, quindi potete pure accendere la... Oh, si è accesa la doccia. Sento qualcosa, sento delle interferenze. Si è accesa la doccia. 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 Aspetta che me lo chiamo, eh. Non la spegnete? No. Che gli facciamo? Perché no? Che facciamo la foto. Dove sei? Perché se la spegni non posso fare più la foto. Dove l'hai spenta, vero? Che ti fai la doccia, zazzone? Sei qui? Sei in doccia? Dove sei? Sei qui? Posso, posso, posso. Dove? Aspetta, dove? Dove sei? Sei qui? Sei qui? Dove sei? Ragazzi, comunque vi ho detto, porca di quella puntata che ho acceso la luce. Dove sei? A me che cazzo mi fai? Dove sei? Franco, sei tu? Ma sta in bagno, perché stai da lì? Gianni. Madonna, benedetta, ancora luce, guarda. Luigi? Sei tu? No, niente, niente aria fredda. Allora, chi è che c'è la spirit box? Dove sei? Esci, Cosmos. Uscite. Parla. Sei qui? Bastard. Sei qui? L'anima che dite è morto. Dove sei? No, non risponde a nessuno, regà. Sei qui? No, non se ne fotto. Allora, io... No, ma non c'è più qua. Droppa la spirit box? Ma la do droppa qua? Sì. La spengo? Sì. Come la spengo? Col destro. No, porco. Ok. Ok. Fatto. Vai, esci. Allora. Ma che fai? Zozzone. Dove sei? Dove sei? Magari te se magna. Dove sei? Magari te squarta da petto proprio, deve uscire tipo adien. Così te le fa. Come? Oh, che cos'è? Ti schiappa al culo dall'alieno. No, non fare l'alatotra! Dai, usa ancora la spirit box, dai. Aspetta che ha mosso qualcosa, non l'hai sentito? No, non l'ho sentito, no. C'ho l'anatre de Cosmos. Dove sei? Potevo accennare anche i piedi, dici no dove sei. Era mio spirit box. Ma era il bagno, regà. Guarda, te l'ho ripessa per terra. Ma hai torto tutto. Dacci un segno. Dacci un taglio. Oddio! Livello 5! Livello 5! No, no, no. Livello 5! Eh, livello 5! Livello 5! Eh, perché non lo dico io no! Ah! Ah! Aiuto! Ma ha fatto l'apparizione davanti, ragazzi! Livello 4! Livello 4! Uscimo, 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 uscimo! Fuscite, sciocchi! Quelle fuscite! Sì, vabbè. Fuscite! Fuscite! Sciocchi! Ma scusa, se gli parlo? Provaci, vai! Ma, Marco, vuoi mettere tu la telecamera che io uso l'anticadro? Sei qui? No, ce l'ho messa la telecamera! Sei qui? Sei qui? Sei qui? Sei qui? Dove stai? Sei qui? Sei qui? Dove sei? Non risponde, regà! Eh, vabbè, va, va! Non risponde! Non risponde! Mamma mia! Non per cazzo! Come si chiama? Eh, Kyle... Kyle Miles! Lo voglio fare incazzato! Ve lo voglio fare! Ma, provaci! Kyle Miles? Sì! Kyle Miles! L'anima di Kit è morto! Kyle Miles! No! Non risponde, alla Kit è morto! Eh, attività zero! Ma i tozzi li abbiamo messi? Ah! Oh! Oh! Ah, no! È compasso in bagno! Sei qui? È compasso in bagno, regà! Adesso di merda! L'ho vista! L'ho vista! Dove sta? Sei qui? Dove sta il bagno? Ah, ecco! Sei qui? Sei qui? Bastardo, rispondi! Quello vogliamo è tu, superi il culo, il coso, eh! Rispondi! No, risponde! Moldoz, cosa sta a due fisso? Beh, è bruno addosso, madonna, benedetta al culo! Non hai detto da schioppar culo, da scioppar culo, da scioppar culo! Così tu, ah, va? Vai, vado a mettere un libro in bagno! Fini, ah, sui box erano odio, oh! Fammi la spegni, fammi la butta per terra! No, ho 87 anni, l'ha capito! Servo un cazzo, quell'altro me la ruba, dammi un po'! Fammi la cazzo, vamo, magari te schioppa tutto! Ok. Che devo che posso usare adesso? Per sale! No, mi viene la pasticca! Mi viene la pasticca! Ma come devi viene la pasticca? Mi ha pasticca di me! Porco Doz! Porco Doz! Porco Doz! Porco Doz! Ma la pasticca! Ma che me li pasticca! Puoi scrivere sul libro? Mi scusi, signor? Puoi scrivere sul libro? Ma la patella può servire a qualcosa? La patella? Sì! No, non sai pancazzo! Allora, Doz e MF5 Esatto, quindi, fantasmi, drove Puntatore Doz e MF5 Allora, Gorio non può essere Libro, spirito, temperatura, congelamento, spirit box Spirit box non è Sfera di luce dovrei vedere qua sul monitor, giusto? Sì! Allora, Gorio non può essere perché l'abbiamo visto io e Cosmos dal vivo Invece il Gorio, i Doz, li può vedere solo dalla telecamera Quindi il Gorio lo escluderei Ok Magari però le sfere di luce così si vedono, Ricky Col visore notturno Sì, ma ora sta... non sta fa un cazzo il fantasma Ma sta telecamera chi cazzo ha messo qua? Vendo via! Che regista! Fa regista lui! Allora Quindi può essere Sfera Spirit Temperatura Libro non può essere Ok, perfetto Quindi sfera, spirit, temperatura Temperatura Ci abbiamo il temperagazzo? Temperagazzo Sfera, non ho capito Temperatura e poi l'altro cos'è? Sfera, spirit, temperatura Impronte mi sento di escludere perché abbiamo visto il Gorio Ma pure lo spirit box non è? Eh, sì, pure lo spirit box Io non ho trovato in giro temperature Se metto il sale Se metto il sale? Eh, ora lo metto pure il sale Ma sta torciona che torciona è? A parte che non me la fa più Quindi Ma per un saccoccio E libro? No Libro non può essere 10 gradi Niente Impronte? 9 Impronte io le escluderei però magari non le escludiamo a prescindere Oh, meno 8 Meno 10 Ebbene, allora si Meno 8 10 Meno 6 Meno 6 Dove? Qua, nella camera da letto C'è scritto una cosa brutta sulla lavagna Eh, sì, no, quello ancora non abbiamo capito che cazzo Dove sta la camera? Ecco Qua Qua c'è un... Ah, no, scusate Ah, stiamo... Eh, si è spostato qua Merda Portiamo delle camere dots qui Ma scusami Eh, ho vi... Eh, mi sto a fare i vapori Eh, vabbè, quello è... L'aglio dei vapori È freddo Eh sì Ebbè, allora è freddo, no? Sì, volevo vedere un attimo i dots Se era confermato Perché i dots l'abbiamo visti dopo di sfuggita Non so proprio sicuro Eh, perché ho visto come se corresse qualcosa Esatto, 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 esatto Provo a riessere stra sicuro, capito? Mica per... Senti un po', io ho quella lavagna e io faccio una foto Perché è strana Che altro ci serve da qui Tra le camera Che cazzo è la porta aperto? Chi cazzo l'ha aperta? È il fantasma l'ha aperta Ok, questa è aperta Ok Io uscirebbe Aspetta, metto i crucifissi Mannaggia Ok Ok Si crucifissi Portacci tua Eh, ho fatto un'apparizione un faccia Ammazza, si appare solo a te un faccia Eh, oh, guardala Vabbè Eh, certo Gira la ruota Eh, temperatura di congelamento? Si Quindi è un Oni Si No, dobbiamo vedere un attimino se Spirit Box I Doz Se i Doz sono confermati Ma anche dalla telecamera? Si Possiamo anche controllare la telecamera Perché andare dentro? Perché i Doz sono confermati? Dobbiamo vedere se sono confermati i Doz Ma non è quello L'apparizione che abbiamo visto? No Dalla telecamera? Sì, i Doz sono confermati Eh, Noni Vedi che sta correndo come un maiale Allora Che fa il Oni? Noni che fa? Noni è un orco È un orco giapponese Gli Oni sono molto più attivi Mentre le persone che sono nelle vicinanze E prosciugheranno la loro sanità mentale più velocemente Ah, ecco perché Scompagliano meno spesso Mentre cacciano le loro prete Quindi puoi fare foto un po' più facilmente Ah, ecco perché sei così basso di sanità Ah, eri così basso di sanità Piate un sale e fammo qualche foto, va Un sale più? Sì, ma moca Cioè, hai mangiato tutta la... Vabbè Eh sì, stavo a zero Stavo Io uno No, no, io ho stato quest'altro Che non drogato Uno Ho preso una pasticca Drogato da che? Ce ne stanno quattro in totale Eh Eh, allora se qualcuno Se lo fate più Chi? Tu? Eh, io ho detto No, no, io una volta Io ho preso due Perché stavo a zero Ah, ecco Sono È compartito Oh, oh Porca madonna Eh Eh, ho capito Sì, ma io quando entro Mi fai apparizioni Però Perché te vuole bene Cristo del Dio Ti vuole anche aspettare Ti vuole anche aspettare? No Sono riuscito a fargli pure la foto Rileva la presenza di un fantasma Sì, ho fatto pure la foto La candela Come si usa la candela Io ho macchine fotografica Allora, aspetta Ma l'incenso può Può Servire Aspetta No, no, no Spesso, spesso, spesso Allora Piate tutte le candele Pure Sensore Io più Sensore Sensore movimento Pio Piate una candela C'era a testa Preso Ok, andiamo Andiamo qua Una seduta spiritica Come si accende? Eh, mo accendo io Ok Allora, le dovete piazzare con F Le dovete piazzare Ah, hai fatto Foto L'impronta del sale E io non c'ho macchina fotografica Ok Piazzatela Dove? Piazzatela Co F Dove cazzo me pare Ok, piazzata Vai No, co F Così L'ho visto L'ho visto pure io L'ho visto pure io Qua bocchina Che cazzo hai sta palla Che cazzo hai sta palla? Eh, l'ha lanciata lui Perì, non vuole giocare Sta frizzando Andiamo La mano è sgringo Ok Poi dobbiamo aspettare Che spenga le candele Le candele E che passi sopra Il coso Senso di movimento E quindi Dobbiamo aspettare Ah, per le sfide Sì Minchia, 41 Vabbè, ma non sta a zero Aspetta, le candele che fanno Si Le dovrebbe spegnere Ma ci deve sta qualcuno O le spende Ma no Le spegne Se ci sta qualcuno Oppure nessuno Non pare che le spenga Dai il tempo Sta zero Ora sta uno Infatti non è Non aspetta Cioè non aspetta Chi è che non aspetta Te Io Un'è spenta Un'è spenta? Ah, un'è spenta, sì Eh sì, ok Uno l'abbiamo fatto Rilevare Fuggire al fantasma No, vabbè Fuggire al fantasma Cercavo di non farla Esatto Rilevare la presenza del fantasma Con un sensore di movimento Ma come l'abbiamo fatto Con Fio adesso Vado a mettere l'altro sensore No, perché molte volte Il sensore si attiva Se ci passi tu Occhio che sta Attività 5 Eh, che te faccio? Ah, ok È scesa Scesa Ho messo Ho messo Vediamo un attimo È comparso Fagli la foto Fagli la foto Ti ho detto Che ho detto Quello che ce l'avamo Che ha aspettato Eh, ma state sì Ma che l'abbiamo fatta, no? Ma che l'abbiamo fatta Vabbè, vabbè Fa niente Fa niente Fa niente Oh, te lo giro, ce l'avevo davanti Ho premuto Il tasto Sì, sì, sì Ma ogni tanto È ballerino sto gioco Che sta a fa caccia Andiamo questa la foto Andiamo io poco Niente Dobbiamo aspettare Che passi sul coso O se no Se andiamo a baffanculo Eh Eh, però Niente E' che ho visto L'ho visto L'ho visto L'hai visto L'ho visto Io l'ho messo proprio là Il cazzo di sensore Però non l'ha preso L'hai visto? Non lo capisco perché però Ma che stai guarda? I sensori Vedi quelle strisce rosse Attività quadro Quelli sono i sensori Ma non possiamo Via più roba con noi Eh no Perché Ma che cosa? Che cosa? Oh Nel senso del movimento È passato Ok ce l'abbiamo fatta Perfetto Perfetto Oni Non ci sono paragoni Oni Non ci sono paragoni E ce ne andiamo Io non so voi Però io chiuderei pure qui Sì Ci sta Oni E io su Zelda Onesto Ok Ok Bene Grazie.